Sicuramente il tema dell'inversione dei flussi è un tema nuovo per l'Italia, ma il progetto portato avanti dalla SNAM è dal mio punto di vista un progetto chiaramente positivo, nella misura in cui avviamo quella integrazione del sistema Italia nel sistema europeo e le interconnessioni sono il primo passo perché ci possa essere realmente una unione dell'energia. Sino a ieri abbiamo ascoltato in plenaria il commissario all'energia che ci ha illustrato un sistema futuro di integrazione che evidentemente deve prevedere almeno tra il 15 e il 20% di interscambio per avere una migliore, più efficiente, sicuramente ancora più in grado di venire in conto alle esigenze dei cittadini, unione dell'energia. È il primo passo e sono i primi passi che stanno muovendo, ma l'Italia può avere sicuramente un ruolo importante di snodo dei flussi e soprattutto di integrazione tra quello che viene dal canale sud e quello che evidentemente è per oggi il flusso maggiore che viene dall'area nord dell'Europa. Il Nord Stream 2 dal mio punto di vista estremamente personale è un raddoppio che ci rende eccessivamente dipendenti dal mercato russo, ma soprattutto passando da paesi che hanno ancora oggi delle difficoltà in termini di assetto democratico e in termini di prospettiva politica, ci espone troppo a far diventare poi Gazprom monopolista nelle forniture a tutta l'Europa. Preferisco rivedere invece un rafforzamento della linea sud anche perché per ragioni diverse e non sfuggirà a nessuno che anche la contrapposizione al fronte caldo oggi dell'Isis in Siria, la posizione sud della Turchia deve essere una posizione rafforzata e l'Europa deve avere con questo paese una partnership forte. È fuori dubbio, come dicevo prima, che c'è una necessità di ampliare le approvvigionamenti, ma non credo che sia Nord Stream 2 la soluzione. La soluzione è sicuramente completare altri canali di approvvigionamento, ma soprattutto destinare le risorse europee all'interconnessione. Perché? Il gas è importante, ma dall'altro lato abbiamo una sempre più forte necessità, anche alla luce degli accordi di Parigi, di rafforzare il mix energetico. Il mix energetico è responsabilità dei singoli paesi membri, ma la interconnessione è oggi una responsabilità europea. Perché ci possa essere un scambio delle eccedenze in alcuni momenti anche di energia in alcuni paesi e questo rafforzerà l'economicità del sistema, i criteri di efficientamento del sistema e soprattutto ci consentirà ancora di avere più energia e a costo basso, soprattutto quando rafforzandosi la produzione delle rinnovabili in alcuni paesi ci sono momenti dell'arco dell'anno in cui ci sono eccessi di produzione in alcune realtà che non hanno possibilità di essere utilizzate in altre e quindi in questo caso le infrastrutture comuni e quell'interscambio almeno del 20% di energia tra tutti i paesi dell'Unione è un obiettivo da perseguire. Credo che un ottimo lavoro sia stato fatto. È stato fatto un ottimo lavoro sia in termini di proposta dalla Commissione, sia in termini di lavoro di affinamento da parte del Parlamento. Il Parlamento ha rivisto alcuni passaggi e soprattutto ha mirato a favorire l'Unione energetica, facilitando o rafforzando le proposte in termini di integrazione tra i sistemi per far sì che realmente ci sia una possibilità di scambio dei flussi e non ci siano più quelle isole che esistevano in passato. In passato esistevano delle vere e proprie enclavi, alcuni paesi o gruppi di paesi totalmente sconnessi del resto del sistema energetico. Oggi la posizione del Parlamento è invece favorevole all'integrazione, favorevole agli interscambi per facilitare un'integrazione a realizzare un vero mercato europeo dell'energia. Il voto che avremo domani è un voto sicuramente importante, però si tratta ancora di un quadro generale che definisce i termini in cui può esserci un mercato unico dell'energia in Europa. Siamo ancora in una fase preliminare, poi dovranno arrivare invece le decisioni vere e proprie. Quali sono i punti fondamentali che si sono stabiliti in questo rapporto? Intanto ci sono tre grandi esigenze. Avere energia con assoluta sicurezza, perché l'Europa importa energia. Riuscire ad avere un'energia a un costo basso, perché è un elemento di competitività della nostra industria e avere un'energia che sia sostenibile, cioè che nella sua produzione non emetta o emetta il minimo possibile di anidride carbonica di gas serra. Attorno a questo si sono sviluppati diversi obiettivi, per esempio l'obiettivo di avere più fonti da cui recuperare energia, oppure l'obiettivo fondamentale della decarbonizzazione, cioè non usare il carbone per fare energia elettrica. È ancora l'obiettivo di avere una forte interconnessione tra i diversi paesi con le reti elettriche e potrei continuare. Si tratta di un quadro generale che abbiamo definito e ritengo che sia molto importante e le cose che abbiamo definito sono molto precise. Noi abbiamo insistito su una questione fondamentale. Ci deve essere un governo europeo su questi temi, perché il mercato da solo, anche se deve obbedire ad alcuni principi, non si autoregola e finisce col produrre degli effetti disastrosi soprattutto sull'ambiente e sulla sicurezza energetica. L'Italia ambisce ad essere un hub del gas. Cosa vuol dire? Ricevere gas e poterlo poi trasmettere nel nord Europa. Per far questo c'è un'opera fondamentale che deve essere realizzata. Si chiama TAP. È un tubo, una grande pipeline che porta il gas dalla Azerbaijan e poi attraverso l'Anatolia, attraverso il nord della Grecia, attraverso l'Albania fino ad arrivare in Puglia. Da lì il gas risale e dà ovviamente disponibilità di metano all'Italia e anche, noi ci poniamo questo obiettivo, al nord Europa. Per questo occorre anche modificare il tipo di impiantistica che già abbiamo e quindi il gas deve poter circolare nelle due direzioni, non soltanto da sud a nord, ma anche da nord a sud. Tenete presente che a differenza della corrente elettrica il gas viene pompato, quindi avere un gas che corre nelle due direzioni significa avere dei manufatti che pompano il gas nelle due direzioni. Quindi noi siamo per realizzare questo obiettivo. Cosa dice il rapporto che voteremo domani? Dice praticamente che non ci deve essere e che è un aspetto non positivo il Nord Stream 2. Perché? Perché il Nord Stream 2 ha come obiettivo quello di bypassare l'Ucraina e quindi dare direttamente il gas in Europa dalla Russia senza isolando un paese che invece è un paese amico degli europei. Quindi per ragioni, chiamiamole così geopolitiche, noi ci esprimeremo contro questo tipo di soluzione. Da una parte c'è una soluzione che è di natura economica interessante per quel che riguarda l'Italia e anche per quel che riguarda l'Europa ed è tutta tecnica questa del TAP. Dall'altra invece c'è una soluzione che ha un problema di tipo geopolitico, cioè isola un paese, l'Ucraina, che in questo momento è un paese che ha motivi di contrasto piuttosto robusti con la Russia. Io ho fatto un'interrogazione parlamentare sottolineando alcune incongruenze che ci sono in quello che fa e dice la Commissione. Perché da un lato si parla di riduzione del ricorso ai cosiddetti fossil fuel, cioè gas, petrolio. Dall'altra noi sappiamo bene che in altri documenti si continua a parlare di petrolio e di gas come di elementi fondamentali per il mix energetico ancora per qualche decennio. Quindi ci sono delle incongruenze molto evidenti, ma l'abbiamo senza entrare nelle tecnicalità, diciamo che ridotto all'osso è proprio questo. Ma è quella stessa cosa che noi vediamo per esempio anche nella COP21 a Parigi o in tanti altri documenti votati dal Parlamento. C'è una spinta anche ideologica ad uscire da questo tipo di energie quando tutti i dati concreti invece ci dicono che nei trasporti, e su questo principalmente era la mia interrogazione, che nei trasporti siamo ancora lontani dal poter abbandonare questo tipo di energia. Quindi queste incongruenze non fanno altro che creare dei cortocircuiti, che non fanno bene ad una politica concreta che deve invece accompagnare un'industria sicuramente verso una tecnologia sempre più amica dell'ambiente, sempre più attenta e rigorosa, ma che non può fare dei salti, perché la natura non fa salti e neanche la tecnologia fa salti. Beh, c'è stata una risposta di rispetto alla mia interrogazione. Io chiedevo dei chiarimenti alla Commissione in questo senso, sottolineando queste incongruenze, e la Commissione ha dato un colpo alla botta e un al cerchio, e mi sembra che sia evidente che ci sono queste incongruenze, non c'è una linearità, perché non ci può essere. Se uno dice noi usciamo completamente, come dice la COP21, dai fossili nel giro di tot anni, poi sappiamo che non è realizzabile. Quindi in qualche modo si crea questo cortocircuito che non fa bene all'industria, che non riesce a programmarsi nello suo sviluppo delle tecnologie, ma soprattutto non fa bene alle persone, che si dice tante volte, no, l'industria è l'industria, però l'industria è quella che crea i posti di lavoro. I posti di lavoro sono quelli che danno il benessere alle persone. Se tu sei senza lavoro, non puoi assolutamente essere amico dell'ambiente. Noi sappiamo che il primo nemico dell'ambiente è la povertà. Difatti i paesi più inquinanti sono i paesi emergenti, quelli che stanno cercando di arrivare ai nostri livelli. Le economie più evolute, più industrializzate, sono quelle più amiche dell'ambiente, ma è stata così una capacità di seguire uno sviluppo tecnologico che andava in una direzione senza voler accorciare i tempi. L'obiettivo è comune a tutti, bisogna però essere realistici e sapere accompagnare questo sviluppo in tempi e modi che siano concreti e realistici. C'è questo studio che verrà pubblicato a marzo, commissionato proprio dalla Commissione europea, per vedere quanto incide sul prezzo del petrolio la legislazione ambientale prodotta dall'Europa. Abbiamo avuto però in Commissione ambiente già un primo dibattito su questo con la Commissione europea che ha anticipato così alcuni dati. Da questo incontro abbiamo capito che circa 41 centesimi a barile incida la legislazione che è stata prodotta tra il 2000 e il 2012 e che quindi abbia inciso nel 25% di riduzione di competitività. e questo devo dire che è un dato abbastanza preoccupante anche perché dal 2012 ad oggi, siamo ormai all'inizio del 2016, tra poco abbiamo messo in campo altra legislazione quindi sarebbe interessante capire effettivamente il costo di tutta la legislazione che abbiamo fatto fino adesso. Invece la Commissione ha detto che dal 2012 ad oggi non ha intenzione di fare ulteriori valutazioni. ha anche detto che alcune industrie hanno ammortizzato bene e continuano ad essere competitive però alla mia domanda espressa se quante industrie, quel percentuale di industrie hanno agevolmente superato questo aggravio e che tipologia di industrie la Commissione ha detto è una bella domanda interessante ma non sappiamo rispondere e mi sembra che qui casca l'asino perché potrebbe anche essere una industria a questo punto che è riuscita a superare agevolmente questo ulteriore aggravio. Ecco, io dico sempre che il punto che noi non dobbiamo superare è quello, noi dobbiamo trovare un equilibrio tra il beneficio ambientale e la competitività delle nostre industrie perché altrimenti noi otterremo un risultato che non facendo bene all'ambiente produce però in Europa una delocalizzazione delle nostre industrie che vuol dire perdita di fette di pil di posti di lavoro di interi settori industriali soprattutto la nostra legislazione si occupa della CO2 ed è quella che soprattutto la produzione di anidride carbonica il cosiddetto gas effetto serra su cui ha puntato molto la propria legislazione ambientale l'Europa quello che noi lo produciamo in Europa o quello che lo produciamo in Africa o quello che lo produciamo in Nuova Zelanda non cambia rispetto al miglioramento della situazione ambientale quindi se noi andiamo soltanto a delocalizzare abbiamo noi una grave perdita economica e non abbiamo nessun risultato ottimale per l'ambiente anzi spesso con la delocalizzazione anche l'ambiente subisce un peggioramento perché quando si va a delocalizzare le regole negli altri paesi non sono così stringenti come in Europa e quindi un'industria che produca in Europa comunque produce meno CO2 di quella che va invece a produrre in altri paesi dove le regole sono più morbide di quelle che abbiamo noi quindi bisogna per questo essere sicuri che la nostra legislazione non vada a intaccare quella che è la capacità delle nostre industrie di essere competitive e di rimanere quindi capaci di produrre benessere, lavoro per i nostri cittadini Sicuramente queste operazioni che si stanno facendo la SNAM che sta invertendo i flussi noi non solo più importiamo ma esportiamo possono essere una grande opportunità per l'Italia noi da sempre siamo stati in prima linea grandi voglio dire anche consumatori del gas il gas naturale è sicuramente tra tutti i fossili il fossile più amico dell'ambiente quello che inquina di meno e quello che ha permesso all'Italia anche di raggiungere alcuni target e di essere più performante rispetto ad altri paesi è uno dei motivi per cui per esempio per noi a volte è difficile essere in linea con dei traguardi di riduzione ulteriore che ci siamo posti negli anni passati proprio perché eravamo già abbastanza abbastanza messi bene diciamo proprio per l'utilizzo del gas io mi auguro che non ci siano in questo senso delle posizioni ideologiche che vadano a bloccare uno sviluppo che invece è assolutamente amico dell'energia amico dello sviluppo amico dell'industria noi non possiamo raccontarci le bugie noi siamo in una società che consume energia se spegniamo l'energia restiamo a terra più niente funziona allora quello che è importante fare è avere un'energia la più pulita possibile la più amica dell'ambiente e della salute possibile e sicuramente in questo il gas ha un ruolo importante e fondamentale il raddoppio del Nord Stream io mi auguro che non vedrà mai la luce perché diciamo ci sono due motivi primo se noi dobbiamo avere una diversificazione dell'approvvigionamento energetico il raddoppio del Nord Stream va a incidere sempre sullo stesso fornitore che è la Russia secondo se noi dobbiamo in qualche modo aiutare l'Ucraina e vogliamo aiutarla l'Ucraina in questo suo cammino verso la democrazia e verso l'essere un paese assolutamente sovrano e democratico non possiamo da un lato aiutarla e dall'altro con il Nord Stream andare a togliere tutto il gas che passa attraverso l'Ucraina e che le lascia credo circa qualcosa di più di 2 miliardi all'anno di guadagni e terzo quello che non è accettabile è questo doppio standard questo double standard di cui si parla qui a Bruxelles e a Strasburgo perché se il South Stream non era realizzabile per le suddette soprattutto per la prima motivazione che ho detto c'è la diversificazione dell'approvvigionamento energetico non si capisce perché il South Stream è stato negato agli italiani quando aveva delle ragioni geopolitiche molto più stringenti e interessanti dal nostro punto di vista del raddoppio del Nord Stream quindi ci sono tutte motivazioni che mi fanno sperare che questo raddoppio del Nord Stream non veda mai la luce ma non sono l'unica visto che oggi abbiamo votato nell'Energy Union proprio un giudizio negativo su questo raddoppio